Musica Lunedì 15 luglio, buongiorno e ben ritrovati con la nostra segna stampa. In apertura parliamo di raccolta differenziata Pescara. Il comune amplia il servizio nella zona di Porta Nuova, il servizio di Valentina Ciarlante. Un puzzle che si va componendo sempre di più e che indirizza la città verso una meta green che si completerà col tassello del centro tra qualche tempo. La raccolta dei rifiuti differenziata a Pescara è una realtà e ora si sta celebrando un passaggio importante ovvero il completamento del sistema porta a porta in tutta l'area Porta Nuova. I residenti hanno già ricevuto i mastelli e la ecocard e per chi andrà in vacanza ci sono e restano a disposizione l'isola ecologica di Via Pepe inaugurata lo scorso maggio e le campane magnetiche per la raccolta del vetro. Sono circa 3.000 e i cittadini residenti a Porta Nuova coinvolti da questa novità e il presidente di Ambiente S.P.A. Riccardo Chiavaroli tende la mano alla popolazione ribadendo disponibilità e collaborazione ad accompagnare ogni persona in una transizione magari complicata all'inizio ma sicuramente efficace. In queste ore quindi via i cassonetti da tutto il quartiere Porta Nuova di Pescara. È un processo utile e interessante dal punto di vista del decoro della città, dell'ecologia e anche economico. Chiediamo quindi il sostegno e la pazienza dei cittadini. Si tratta solo di modificare un po' le nostre piccole abitudini ma i risultati saranno positivi per tutta la città. Passiamo allo sport, al calcio di Serie C in particolare con il Campobasso che ha ufficializzato un altro calciatore. Si tratta del difensore Marco Bosisio in prestito dal Renate classe 2002. È un difensore centrale che ha ricoperto nella sua esperienza calcistica anche il ruolo di esterno difensivo destro. Si è formato nel settore giovanile del Milan di cui è stato anche capitano della primavera. Poi è passato al Bari, infine a Renate e ora l'esperienza in rosso-blu. Lui si dice molto entusiasta di questa nuova avventura. Parliamo del Pescara perché è stato presentato proprio ieri il nuovo tecnico Silvio Baldini. Sentiamo tutto nel servizio. Intanto è inutile dire le stesse cose, che uno è contento, sono felice. Il problema è iniziare a lavorare e cercare di inseguire una cosa bellissima che la cosa bellissima è inseguire un sogno che nessuno si aspetta di raggiungere un obiettivo importante attraverso il gioco. Io gioco soprattutto per come desidera il popolo pescarese. Il popolo pescarese vuol vedere una squadra propositiva. L'abbiamo detto prima, le magie qui sono avvenute quando la squadra si è proposta di giocare in attacco, quando si è proposta di andare più vicino alla porta per dare un'emozione a chi è sugli spalti. A me è sempre piaciuto giocare in questa maniera ed è normale che io sono felice di poter esprimere questo mio tipo di idea. Ciò non vuol dire che in certi frangenti non dobbiamo soffrire e difenderci. Possiamo anche difenderci perché se trovi quelli bravi o la domenica non è quella giusta, non è che possiamo dire che oggi perdiamo e diciamo che abbiamo giocato all'attacco. No, noi bisogna giocare all'attacco con la convinzione che i nostri tifosi poi alla fine saranno contenti del risultato. Perché se il tifoso è contento vuol dire che noi abbiamo espresso quello che lui desidera. Quindi giocare all'attacco per il popolo di Pescara è proprio un timbro, è proprio nel loro DNA. Quindi noi non bisogna rinunciare. Bene, diamo ora uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani regionali e nazionali, partendo come di consueto da primo piano Molise. La cronaca in apertura, col far west in centro e panico, scappa a una pistola, il virgolettato riportato, scene di ordinaria follia a Venafro sabato sera, calci e sprangate a un uomo che torna armato sul luogo del misfatto, nei video amatoriali la paura dei passanti, indagini serrate dei carabinieri, il sindaco condanna i responsabili. Questa gente c'entra poco con noi. Il Molise Pride del 2025 sarà a Termoli, città simbolo perché vicina alle Tremiti, l'annuncio di Archiei scatena la rete, l'evento nella Tana del presidente Roberti. Incidente sulla 14, addio al medico Adamo Ioffredi, due comunità sotto shock. Poi l'iniziativa dei farmaci alla spesa, l'hauser pensa agli anziani aperti per ferie. Ripari Mosani, casa di riposo, muore cadendo dal balcone. Oggi sarà effettuata l'autopsia. E a Palazzo San Giorgio, deleghe ai civici di Pino Ruta, ok c'è il decreto attesa per le altre che saranno annunciate nel corso del Consiglio Comunale. Di questa mattina in cattedrale il calvario raccontato in antiche formelle di scuola toscana, donate dal Banco di Napoli a Don Pizzardi, adornano la Trinità. Parliamo di Campobasso, oggi il punto a firma di Pasquale Damiani, la sconfitta della politica. Sport, Lega Pro, Campobasso in difesa, arriva il prodotto di scuola Milan, Bosisio, eccellenza. Venafro, altro pezzo da 90 nella rosa e bianconera, arriva El Wazni. Fratangelo centra la medaglia di bronzo negli europei di pallavolo under 18 in Romania. Vediamo ora la prima pagina del centro che propone i disagi in città a Pescara per tutta l'estate dovuti all'acqua. L'ACA, chiusure necessarie, capienza ridotta del 40% alla sorgente giardino. Addio alla gatta, sindaco simbolo a Bussi della lotta per la discarica, aveva 69 anni, domani ci saranno i funerali. Poi spiagge all'asta, sentenza blocca gli indennizi, la regione stop al piano, bastonate per la mancata precedenza. Francavilla, giovane spacca il lunotto di una macchina davanti a due bimbi dopo la lite in strada. Multe a raffica e auto rimosse, domenica nera a Pescara, vie chiuse e parcheggi vietati, polizia al lavoro dall'alba. Pescara, sempre oggi Masci, nomina i suoi primi assessori, roghi e paura in montagna, nessun monese, in fumo 30 ettari di bosco, c'è anche un approfondimento calcistico sugli europei vinti dalla Spagna, l'Inghilterra sconfitta 2 a 1 ieri sera, l'attentato a Trump scuote il mondo, Stati Uniti spari durante il comizio, l'ex presidente è ferito all'orecchio, ucciso il cecchino. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo, rissa la movida, ragazza ferita all'Aquila, una ventenne colpita alla testa da una bottiglia vagante, coltellate fra tre stranieri, presente il bilancio dell'ennesima notte di follia in centro storico, allarme per l'ordine pubblico. Lotta al crimine, Avezzano si blinda con 136 telecamere, siamo la città più sorvegliata d'Italia. Grandi eventi, il giorno della sentenza, l'attesa di politici e manager coinvolti, lo scandalo a Pescara, ancora di spalla, nuovi tagli colpiti, 9 comuni su 10. Abussi, addio alla gatta, la bonifica dei veneni perde il combattente, il sindaco scompare da 69 anni, paese in lutto, una vita di battaglia per il lavoro e per l'ambiente. Con l'AFA arriva la mucillaggine, fuga dalla costa dei Trabocchi, a Ortona, un enorme banco rende impossibile i bagni. Davasto investe un cinghiale, motociclista grave in ospedale. E poi fiamme nel parco, distrutti 25 ettari a Sulmona. Le notizie di tutto la testata, ha dato l'intelligenza artificiale e aiuterà le imprese. Serie C, Pescara, abbiamo visto, Baldini si presenta, il sogno resta sempre là. Serie B, ciclismo donne. Il Giro d'Italia, dopo 16 anni l'Aquila incoronava a Longo. Dal 2008 una ciclista italiana non vinceva la più importante corsa a tappe femminile. Vediamo ora le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Naturalmente oggi c'è ampio risalto dato al tentato a Trump. G-007 sotto accusa, l'attentatore aveva 20 anni, gli spari da 120 metri, esplosivo a casa e nell'auto. Il Tycoon il male non vincerà. La Casa Bianca inchiesta sulle falle dei servizi segreti. La ricostruzione dell'attacco, morto un ex capo dei pompieri. Ha protetto moglie e figli dagli spari. Proiettili, lo sgomento, le striature di Paolo Giordano. Ora basta con i toni si è sperati. Adriana Logroscino e ancora Biden ora è costretto a cambiare strategia. La telefonata al rivale, fermati gli spot in tv più duri, gli estremismi e la demonizzazione degli avversari. Di Federico Rampini e ancora il Regan disse, ho dimenticato, di scansarmi. Vince la Spagna, finisce il sogno inglese. Iberici campioni d'Europa per i rivali alla seconda sconfitta consecutiva in finale. Dopo quella subita dall'Italia nel 2021. E ora la Repubblica, vediamo l'apertura di Repubblica. L'America al bivio con la grande foto di Trump che nonostante ferito alza il pugno verso i suoi fan. Il giorno dopo l'attentato la violenza politica incombe sulla campagna elettorale. L'FBI indaga e polemica sulle falle della sicurezza. Mistero sul muovente dell'attentatore. Ha sparato dal tetto di un edificio, aveva anche degli esplosivi. Melania Trump, un mostro. E ancora Trump, Dio mi ha protetto. Biden è il momento dell'unità. L'approfondimento, il sangue e la responsabilità di Ezio Mauro. E l'analisi dell'esibizione del corpo ferito di Corrato Augas. Anche qui si celebra la vittoria della Spagna agli europei. Vediamo ora il messaggero quotidiano romano che apre con naturalmente l'attentato a Trump. flop della sicurezza, telefonata gelida con Biden. Gli 007 hanno ignorato le segnalazioni. La scorta in tilt, l'attentatore un ventenne repubblicano. Donald, stiamo uniti. Joe, indagine indipendente. Armi facili e odio politico. La storia scritta con il sangue. L'analisi di Vittorio Sabadin. Convention repubblicana blindata. Ma la vittoria adesso è più vicina. Il reportage aspetta il leader. Statali, aumenti medi da 150 euro e lavoro più agile al via ai tavoli per il rinnovo dei contratti. L'ufficio cesserà di essere la sede prevalente. La russa, Schlein alla destra, Giorgetti in porta. L'amichevole tra politici e cantanti che andrà in scena. In questi giorni, schianto in auto, muoiono quattro ragazzi, amici inseparabili. La tragedia è avvenuta ad Avellino. Vediamo ora il tempo, la prima pagina del tempo che propone Super Trump. Questa è l'apertura con Trump vestito da Superman. Dopo l'attentato, l'ex presidente alza il pugno in città gli americani contro Sleepy Joe. E ora diventa il grande favorito. Quegli spari, poi la paura, così risorge il nuovo Donald. Questo è l'articolo che parte dalla prima pagina di Paola Tommasi. Sale l'allerta a Roma, sicurezza rafforzata nelle sedi diplomatiche USA. Un giornalista romano scambiato per l'antettatore la bufala sul web. E poi vediamo Kate in corona a Alcaraz. Parliamo del torneo di Wimbledon vinto dal fenomeno spagnolo, appunto definito re di Wimbledon. Passiamo ora al fatto quotidiano. Naturalmente anche qui apertura dedicata a Trump. È salvo per un pelo tutti i misteri del cecchino. Il candidato ferito a un orecchio e le falle nella sicurezza. Nessuno ha fermato l'attentatore armato di fucile e bombe a 150 metri. Lo sparo in fuoco alla campagna elettorale negli Stati Uniti. Poi dall'Italia la Lega fa ballare meloni su armi a Kiev. Voto a Ursula e liste d'attesa. Zaia basta guerra. Fedriga e compagni furiosi sulla sanità. Casa alla grande carestia. Non si affitta ai residenti. Questo è l'approfondimento del fatto quotidiano. E ora la verità. Se non puoi batterlo, abbattilo. Democrazia americana. Donald sopravvive a un tentato assassino favorito da un clima d'odio e a un ingistificabile disastro della sicurezza. Eppure c'è ancora chi dà la colpa a lui. Dice la verità. Ferito all'orecchio. Dio mi ha aiutato. Ora restiamo uniti. Più forte l'asse con Musk. La telefonata di Joe. Ma ormai non serve trovare un sostituto. Da noi è subito follia. Che peccato. Così sarà una vittima. Saviano Merlino in compagni. Dice la verità. Il killer Violets. Il cronista romano va in mondo. Visione. L'incredibile bufala. Che è corsa ieri sul web. E ora le notizie economiche. Sul sole 24 ore. Reati e minori. Cresce l'allarme sociale. L'inchiesta in Europa aumentano le violazioni caratterizzate da maggiore aggressività. Regioni. Fedriga davanti a tutti. Sindaci. Vince guerra. Il sindaco di Parma. Il presidente Bonaccini e Zaia sul podio. Nei comuni secondo Manfredi di Napoli. E terzo Te Pascale di Ravenna. La governance poll. Vediamo anche un'altra notizia. Per i forfettari. parte il concordato preventivo in arrivo le proposte solo annuali del fisco debutto atteso per oggi. E ora la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Naturalmente dedicata all'impresa della Spagna che vince ancora l'europeo Spagna Olé. Morata alza la Coppa e va al Milan. Williams e Yamal. Che spettacolo. Europeo. Inglesi ancora battuti in finale per 2 a 1. Dopo la sconfitta ricevuta tre anni fa dall'Italia ai calci di rigore. E dunque c'è la grande foto della festa della Roja di ieri sera. E si dà spazio naturalmente anche ad Alcaraz che ha fatto il bis a Wimbledon. E' uno schiaffo a Nole. Ora vedo Sinner. E poi Pogacar al Tour cancella il record di Pantani sui Pirenei. Che fu stabilito dal Pirata del 1998 quando vinse Giro e Tour. Doppietta col giro vicina anche per lo sloveno. E poi sotto la testata Motta vuole Todibo. L'accelerata della Juventus. Siratta del difensore del Nizza. Inter ha tutta su Cabal. C'è anche il Sidi Ocatri. Il Jolly del Verona. Bene, prima di salutarci diamo un'occhiata al palinsesto odierno. Che propone alle 11.00 sorgente Studio TV. Alle 11.30 spettacolo personaggi e situazione del teatro Isernino. Poi slo tour alle 13.30 i misteri a Campobasso. Alle 14.00 prima edizione del nostro telegiornale. Alle 16.15 sorgente Studio TV. Alle 19.30 seconda edizione del TG News. Alle 21.00 saluta i raggi X. Alle 22.00 Inside Abruzzo. Ultima edizione del notiziario alle ore 23.00. Bene, è tutto anche per oggi. Vi ringrazio per averci scelto. Arrivederci.